No, no, soddisfatto, certo, c'è una situazione potrebbe magari darti la classica dosi di fortuna, ma non c'è stata, ma poi in emergenza, fatto che è troppo in questo senso, perché i ragazzi che hanno giocato 90 minuti domenica scorsa hanno dovuto giocare anche oggi, principalmente la difesa, avevamo dei problemi anche in senso di ricambi come concetto, ma non perché i ragazzi non si abbassano, anzi abbiamo stato dire qualità importante, perché esordire in Coppuefa quasi 4 giocatori dal 91-93 vuol dire che hanno caratteristiche buone per sostenere mentalmente e anche emotivamente la questione, quindi direi che è stata per loro una bella soddisfazione, per la solità anche, o per la primavera, veder soddisfatti il lavoro fatto sotto, per noi non potremmo fare di più perché non avevamo grandi ricambi come lavoro, e mi dispiace per Nicola che ha avuto questa infortuna, vediamo adesso di che entità è, perché stava giocando veramente bene, di fatti la difesa pur rimaneggiata come concetto, si vede che a me ha concesso praticamente zero tiri in porta a Sardisburgo. Per Krasic invece la situazione qual è? È stata una precauzione? No, avevamo questo problemino, Krasic è l'ultimo dei problemi, perché domenica non gioca, quindi il problema non c'è, vediamo se sta bene per mercoledì prossimo, cercheremo di recuperarlo. È stato purtroppo un problema la vittoria dell'Ecpost in ottica qualificazione? Non lo so, dipende, perché io penso che questa è una convinzione che nessuno ci tiene a perdere, quindi io penso che anche Sardisburgo e le Pozzano per esempio possa essere una partita difficile per l'Ec, è sicuramente non tanto semplice come pensano loro, anche per noi, per noi abbiamo cominciato a vincere tutti e due, quindi vediamo cosa succede. Grazie.